Orgogliosa di aver frequentato il Respighi e incredula di fronte a questo riconoscimento. La ricercatrice Anna Rosa Tiramani commenta così il premio Respighiano dell'anno che dedica alla madre. Stamattina la consegna nella sede del liceo. Tiramani, manager piacentina di Enel e Cesi, ha speso parole di grande stima nei confronti della scuola italiana, capace a suo avviso di offrire una formazione unica e completa agli studenti. Non si parla tanto bene magari della scuola italiana, invece la scuola italiana è una scuola ancora che è una delle migliori che ci siano in giro per il mondo. Io ho frequentato studenti anche da altre parti in giro, anche nell'università in giro per il mondo, e sia la nostra scuola, soprattutto la nostra scuola superiore e la nostra università sono ancora tra le migliori del mondo. Durante la cerimonia sono stati premiati anche i ragazzi più meritevoli.